Con l'eroe della forza. Ercole, che ve ne pare? Una forza sorprendente, tuttavia c'è da osservare, era più braccio. Che mente! Splendore dell'Olimpo, c'era una volta. Splendore di oggi, c'era emulsio. Per la vita dei vostri pavimenti, c'era emulsio. In un solo flacone la cera per ogni tipo di pavimento. Con c'era emulsio, il piacere di dare la cera. E calze e asciugamani di marca in regalo. E tanta luce, più luce in casa con marga vetro. Per bacco, sono prodotti marga.